Ocafor Ocafor con la Calabria a supportare Ocafor con il Sa E poi mette dietro con Ocafor anticipato Adesso la gioca al 1 Poi in bucata per Ocafor Che calcia col sinistro Dopo aver superato un paio di avversari L'altra parte interessante in verticale Per Ocafor Si isola Trovera dettaglia internamente Il postato di sinistra Palla dentro per Ocafor E' un talus punto Ma però